E' morto all'età di 44 anni Daniele Tagliolini, presidente della Marche Multiservizi ed ex presidente della provincia di Pesare Urbino. Dalla scorsa estate lottava contro un tumore allo stomaco. Natto a Sasso Corvaro il 22 ottobre del 1977, ha ricoperto diversi ruoli nel suo percorso, tra i tanti sindaco di Peglio nel 2004 per ben tre mandati, dal 2014 portavoce nazionale di Lega Ambiente per i comuni rinnovabili e da aprile dello stesso anno presidente del lato. Ma sono tanti, ancora tanti, gli obiettivi che Tagliolini ha susseguito e raggiunto grazie anche alla sua grande esperienza, dedizione e tenacia. Nonostante la malattia era sempre al lavoro e al servizio per il territorio. In tanti sul suo profilo social lo hanno voluto ricordare per la sua bravura, per il suo impegno, tanto lo sgomento tra amici, parenti, e il mondo politico. Tra i tanti sindaci a ricordarlo il primo è stato quello di Pesaro Matteo Ricci che lo ha descritto come un amministratore appassionato e lungimirante, un politico leale e interessato solo alla sua terra. Una persona sempre positiva e soprattutto uno di quegli amici che ti coprono sempre le spalle in tutte le circostanze. Nel sito della provincia c'è ancora la pagina dedicata a lui con una delle sue diciture chiave. Non è importante chi fa gol o che opera si realizza. Quello che conta è giocare di squadra ed avere tutti un obiettivo comune. Tagliolini lascia la moglie Giovanna e i suoi due figli.